Rieccoci con iNews, questa puntata che oggi ha l'onore e piacere di illustrare e informarvi su uno dei tanti progetti che portiamo avanti insieme a del personale medicale e azienda ospedaliera porternese. Quindi non vi invito altro che a osservare questa e guardare attentamente perché troverete anche delle informazioni utili a un mondo intero. Seguiteci, a dopo. Ben ritrovati con Stefano Boscaiola, iNews, la nostra rubrica che oggi ha piacere di ospitare e soprattutto ringraziando la dottoressa Bomben Giulia che ci spiegherà il suo ruolo all'interno di questo reparto di ostetricia e soprattutto perché Laila ha voluto una figura professionale di questa portata. E colgo anche l'occasione poi per presentare le sue collaboratrici e per affrontare un discorso che è molto interessante ed è quel motivo per cui noi conduciamo una comunicazione che sia informativa, voluta proprio a mostrarvi perché vengono utilizzati e dove vengono utilizzati i finanziamenti, i soldi, le donazioni che molti volontari, come abbiamo già detto in altre rubriche, danno anche in maniera anonima perché non vogliono apparire. Però è giusto che noi vi informiamo, quindi non è apparire ma è un'informazione. Dottoressa, io la ringrazio di essere ospite di AIL e soprattutto di questa rubrica con Tele Pordenone, però dobbiamo far capire il suo intervento all'interno di questo reparto, la sua figura professionale, quale ruolo e quale compito. Grazie. Grazie a voi, nel senso che mi date l'opportunità di poter esprimere la mia gratitudine AIL che ha sempre sostenuto progetti importanti e nello specifico anche la mia figura, io sono la referente del progetto allattamento per l'ospedale e il punto nascita di Pordenone. L'azienda ospedaliera di Pordenone è due punti nascita, quello di Pordenone e quello di San Vito, che da molti anni fanno parte del progetto Unicef OMS, ospedale amico del bambino, che va ad attuare iniziative a sostegno, promozione e protezione dell'allattamento materno. Questo perché l'allattamento materno per il bambino è il migliore alimento e ha ricadute nella salute sia della mamma sia del bambino a breve e a lungo termine. L'allattamento difatti protegge la salute della mamma dal tumore dell'ovaio, dal tumore della mammella e a lungo termine è un fattore di prevenzione nell'osteoporosi. Invece nel bambino piccolo è protettivo da una serie di patologie infiammatorie, infettive tipiche della prima infanzia e poi ha ricadute nella crescita sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista di sviluppo psicologico ed emotivo, in quanto si crea una bella relazione tra la mamma e il suo bambino e anche l'aspetto del maternage e dell'attaccamento sicuro hanno delle ricadute positive. Vedete che è molto articolato e molto interessante questo ruolo ma nello specifico si presentano qua delle mamme e si rivolgono a lei per quale motivo e come fanno a rivolgersi a lei? Allora io rappresento un'equip costituita da molte persone, ho piacere di dire questa cosa perché non restino nascoste, è un'equip composta da personale della neonatologia nido e dell'ostetricia, sono tutte persone formate preparate e a questo proposito ci tengo a dire che una parte del mio compito è quello di organizzare la formazione del personale che opera all'interno di questa struttura in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Unice fanno previsto dei corsi specifici per operatori informati, coinvolti e dedicati e in base al loro ruolo ci sono appunto questi training formativi che il personale deve obbligatoriamente svolgere. Il personale dicevo è a supporto della mamma quando dopo un percorso individuale viene qui a partorire, alla mamma viene chiesto se ha piacere di allattare il suo bambino e se la mamma è accondiscendente allora a quel punto ognuno di noi dà la sua parte affinché la mamma si senta sostenuta, incoraggiata in quanto l'allattamento è una bellissima cosa che si protrae nel tempo ma l'avvio come in tutte le nuove esperienze può presentare delle piccole difficoltà o delle grandi difficoltà e noi siamo qui per sostenerle e aiutarle. Mi permetta una domanda, la differenza dell'allattamento attraverso il seno materno e l'allattamento invece con il latte artificiale? Diciamo che il grosso vantaggio dell'allattamento materno è costituito dagli anticorpi che sono presenti nel latte della mamma e nessun latte formulato al momento riesce a trasmettere questo fattore immunitario che protegge il neonato dalle primarie infezioni. Quali sono le criticità che lei ha affrontato in alcuni casi che si sono presentati qua in reparto? Le principali criticità possono essere di due nature insomma. Innanzitutto può esserci una criticità legata a una difficoltà quindi magari a un seno che ingorga piuttosto che presenti delle raga di condizioni che rendono veramente complesso l'allattamento e anche doloroso per la mamma. Poi ci sono anche delle difficoltà legate magari alla stanchezza, alla necessità di accompagnare la mamma attraverso un supporto emotivo. Mi scusi la curiosità ma si parla tanto di stili di vita in diversi settori medicali, di diverse generazioni. In questo caso lei che consiglio darebbe a una mamma o una futura mamma come stile di vita per far sì che possa preservare questa caratteristica naturale dell'allattamento. Una mamma diciamo l'allattamento è fisiologico per cui è la naturale continuità a quello che capita dopo la gravidanza e il parto. L'allattamento risponde alla legge della richiesta e il neonato sa benissimo che cosa deve fare e quando lo deve fare. Quindi la cosa importante è assecondare i bisogni della mamma e del suo bambino che sono estremamente competenti. Cioè l'allattamento non è un fatto da medicalizzare e da lasciare alla natura e da lasciare al tempo della mamma e del bambino. Tempi che sono estremamente suggestivi e non rispondono ad un manuale con tempistiche precise. Il compito nostro è quello di far sì che questa mamma e questo bambino si possano incontrare in un contesto protetto e tranquillo e abbiano la possibilità di ricevere tutto il supporto necessario qualora ci sia qualche necessità. Per arrivare a far sì che la mamma possa avere effettivamente il latte materno e qual è la caratteristica principale oppure un percorso da seguire prima del parto? Il consiglio è quello sempre comunque di seguire dei corsi di preparazione al parto che vengono fatti nei diversi consultori della nostra realtà provinciale e ci sono anche degli incontri che sia al punto nascita di Pordenone che di San Vito prevedono per le mamme in gravidanza. Questo consente alla donna di attuare una scelta consapevole quindi di arrivare al momento del parto con la chiarezza di idee rispetto al fatto di allattare o non allattare. Il neonato non mangia ogni tre ore, il neonato è libero di nutrirsi ogni qual volta lo richiede e questa è una cosa che noi cerchiamo di agevolare nelle situazioni di fisiologia, ovvero quando abbiamo dei neonati nati a termine con un buon peso, che non presentano difficoltà particolari la mamma e il bambino vengono lasciati nella stessa stanza a dire il vero immediatamente dopo il parto e con l'espletamento del parto il bambino viene subito posto sulla pancia della mamma dove ha la possibilità, se lo gradisce, di iniziare la prima poppata. Questa è la chiave per un buon successo dell'allattamento. Buon successo dell'allattamento che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda essere esclusivo al seno, quindi senza aggiunta di tisani, alimenti fino al sesto mese di vita, perché è un periodo lungo e dopodiché ci sarà l'introduzione degli alimenti complementari e questa è tutta una gestione a carico principalmente del pediatra. L'importanza che abbiamo avuto noi dell'Aile, lei crede che sia stata fondamentale anche per questo servizio, no? Assolutamente sì. Si sta espandendo anche alla realtà della patologia neonatale in quanto il latte materno non è importante solamente per il bambino nato a termine fisiologico ma è particolarmente importante in virtù delle cose che ci siamo detti prima per i bambini che nascono con patologia o con prematurità. Le mamme si possono rivolgere al servizio di ostetricia e dei punti nascita nelle 24 ore e troveranno sempre delle persone preparate e disponibili ad accoglierle e aiutarle. La ringrazio tra l'altro, devo dire che se avete bisogno abbiamo anche qui presente la Doris, la nostra collaboratrice segretaria, che c'è anche l'Aile, l'ufficio dell'Aile a disposizione come, ripeto, e lo faccio anche per la dottoressa, abbiamo oltre la rubrica il sito Aile, www.ailpordenone e abbiamo il periodico che uscirà adesso nella campagna nazionale delle UO di Pasqua come esce a Natale, dove vi aggiorneremo di questo e di altro. Aggiungo, se voi venite a fare un giro in ospedale, in diversi reparti noi siamo presenti con delle iniziative che hanno dato non solo la professionalità come la dottoressa qua vicino e le due specializzanti di cui avete visto l'intervista nella precedente puntata ma abbiamo anche oggetti, arredamento, macchine che abbiamo acquistato quindi l'ospedale e la sanità pubblica è veramente avvantaggiata dal vostro aiuto e dalla nostra collaborazione perché stiamo facendo delle cose importanti e non è un incensarsi, scusatemi, ma è proprio per dire che siamo orgogliosi e onorati di questo gioco di squadra che è concretizzato soprattutto per un obiettivo solo per chi è meno fortunato e chi sta poco bene. Noi stiamo preparando tra l'altro anche una buona inaugurazione di una sala riunioni che è all'interno della pediatria e ne renderemo conto perché penso sarà verso fine febbraio e quindi faremo una rubrica proprio dedicata a questo evento importante con l'aiuto anche di chi ha confezionato questa sala dell'azienda Cristaglia che ci ha omaggiato di 50 sedie ma di questo ve ne racconteremo più avanti come sta andando avanti alla grande il progetto Ematologia Arrivasta Polonese. Permettetemi prima di salutare che poi faremo un giro con le collaboratrici di salutare Flavio Frozza di San Vito che è il nostro collaboratore consigliere che è stato operato ma soprattutto ringraziandolo anche per le iniziative che porta avanti in quel di San Vito. Dottoressa Bomben, se vuole dire due parole di chiusura ma sono così quelle che le viene in mente sul momento per salutare i nostri volontari il nostro mondo AIL e fra poco andremo a presentare le sue collaboratrici che sono fondamentali da quello che ho capito. Assolutamente, io ci tengo in modo particolare a far presente che questo è un lavoro di equip io rappresento un progetto però dietro di me ci sono persone assolutamente motivate e valide che sono a supporto di quanto porto avanti grazie al sostegno di AIL. Benissimo, la ringraziamo di cuore e complimenti, le auguro un buon lavoro, una stretta di mano e andiamo a vedere adesso e a conoscere queste collaboratrici. Seguitici, grazie. Ecco, come promesso, le collaboratrici della dottoressa Giulia Bomben che andiamo a presentare si presentano da sole e anche nome e cognome e ruolo. Allora, Lucia Cristiano, coordinatrice del reparto di Ostetricia. La dottoressa Bomben e Giulia avete già vista. Deitos Maria Teresa, infermiera coordinatrice del Nido e della Neonatologia. Avete visto che personale? Beh, qua trovate l'ospedale civile di Pordenone, trovate questa squadra, queste dottoresse che ringraziamo a nome dell'AIL e vi auguriamo di cuore un buon lavoro, un buon proseguimento. Voi sapete che noi ci siamo, quando avete bisogno, i riferimenti ce li avete e quindi siamo a vostra disposizione. Grazie ancora del lavoro, grazie a voi e grazie. Eccoci, terminata anche questa puntata, sperando di aver fatto come sempre cosa gradita e soprattutto una giusta informazione equilibrata per rendere dotti coloro che ci danno una mano in un gioco di squadra mirabile, torno a ripetere, gioco di squadra fatto dall'AIL, fatto dai volontari, fatto dal personale aziendale, medicale e ma da tutto un mondo che ci segue anche attraverso questa rubrica, ringraziando ancora una volta il direttore Gigi Di Meo per l'opportunità che ci dà a Telepordenone e io, come Stefano Boscherol, vi do appuntamento alla prossima puntata sempre con cose interessanti in un mondo AIL che dobbiamo e vogliamo far conoscere proprio grazie al contributo che voi date quotidianamente. A risentirci, grazie. Grazie. Grazie.